top 4 valli con idol master contro dennis con index ma tu no aspetta aspetta io scambio lo scartone brainstormer più mille a corso centrale quando entro guardo la prima carta e quando stanno posso pagare uno lei ranna dove? e anche le perreverse ovviamente posso darmi anche più lei stessa è una 2.500 è una 2.500 cioè 3.000 scusa 3.000 perché è al centro se si sposta diventa 2.000 ok entro in un attaccio 1,2 1,2 1,2 1,2 2,2 vai 2,2 il Adesso sono qui di vedi. 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 Adesso è qui di vedi. Adesso è qui. Adesso è qui di vedi. Adesso è qui di vedi. 8 e 5. livello 2. è qui di vedi. e qui di vedi. e qui di vedi. e qui di vedi. per 2. esagerate. e qui di vedi. e qui di vedi. e qui di vedi. di vedi. e qui 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 di vedi. e qui. e qui di vedi. 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 e qui di vedi.